bella domanda soprattutto che cosa ci fa qua cinigiano in un campus teatrale un professore di matematica e fisica di una scuola superiore questa potrebbe essere la domanda che ha direi una duplice risposta e sono due risposte molto legate tra di loro un motivo è istituzionale avendo io partecipato al premio Gaber come referente dei laboratori teatrali della mia scuola ma soprattutto sono qua al campus perché nella mia scuola faccio teatro ho il vantaggio di essere in una scuola in cui è stato creato sette anni fa un gruppo teatrale docenti e questo ha scatenato tutta una serie di rivoluzioni in me che mi hanno portato poi a essere in realtà cooptato non è stata una mia decisione mi hanno incastrato detto brutalmente a essere il referente dei laboratori teatrali dei ragazzi però questo è il secondo anno che vengo a cinigiano al campus Gaber primo anno ne ho sentito parlare quando sono venuto con i ragazzi a darci dosso al premio Gaber e mi sono un pochino incuriosito il secondo anno mi sono incuriosito di più ho detto beh proviamo tornato dal campus sono tornato letteralmente trasformato ho sentito il completarsi di una rivoluzione innescata anni fa dentro di me che mi ha portato a sentirmi più forte più indipendente per certi versi anche un po più menefreghista di tante cose un volere come dire ridimensionare quello che c'è attorno a me tutte le storture in particolare e quindi mi sono detto beh è stato bello riproviamoci con l'idea arrivando qua quest'anno mentre l'anno scorso mi era chiaro beh se posso lavoro con i ragazzi quest'anno boh rifaccio quello che ho fatto l'anno scorso come l'anno scorso in realtà mi sono messo a disposizione l'idea è lavoro con i ragazzi cioè è bello mi butto dentro adesso per questa per questo video non mi hanno fatto neanche trucco e parrucco sono stato prelevato dall'attività sporco bagnato come ero mi sono giusto ripreso un po perché mi hanno fatto aspettare ma va bene così questo è quindi lo vedo un po come un'opportunità di crescita personale vedere un po che cosa succede adesso visto che ho raggiunto dei bei risultati su di me e adesso vediamo cosa c'è oltre e poi perché spero sempre di trarre delle utili indicazioni anche per la mia didattica per il mio modo di fare scuola per il mio modo soprattutto di pormi con i ragazzi lavorando da adulto con i ragazzi mi rendo conto di certe difficoltà della cosa perché c'è poco da fare io ho più di 50 anni loro ne hanno meno di 20 e c'è una disparità di trattamento o meglio di relazione tra il gruppo dei ragazzi e la mia presenza anche se i ragazzi devo dire sono molto accoglienti però sento io questa distanza temporale e in un certo senso la differenza di ruolo tant'è che ogni tanto mi sento di accompagnarli di guidarli e ogni tanto penso vabbè adesso mi butto io per primo così rompo il ghiaccio faccio vedere che un adulto ha il coraggio osa provare buttarsi mettersi in gioco non ha paura di fare delle cose che lì per lì possono sembrare un po assurde un po un po strane ecco allora alcuni miei colleghi molti miei colleghi sanno già dove sono andato molti sanno già anche che cosa ho fatto l'anno scorso al campus gaber a che cosa serve serve proprio secondo me a a smuovere qualcosa dentro di noi serve molto a imparare a relazionare a relazionarci con gli altri a relazionarci con se stessi innesca dei meccanismi di ascolto di aiuto di rivalutazione delle proprie azioni del proprio modo di porsi nei confronti del mondo dell'altro e di noi stessi porta di fatto a una maggiore accettazione di tutte quelle che sono le nostre debolezze i nostri le nostre zone d'ombra che mi verrebbe da dire deo grazia che ci sono avevo letto anni addietro un articolo nel quale si diceva noi viviamo in case che sono troppo illuminate in ambienti che sono troppo illuminati mancano le zone oscure beh casa mia è una casa che ha molte zone molte zone d'ombra soprattutto la mia camera da letto ho voluto farla dipingere far dipingere il soffitto di blu scuro per ricordarmi anche un po il cielo però è una camera che ha dei punti luce messi un po male e non si riesce a illuminarla bene che più delle volte ovviamente è un grosso svantaggio ed è una grande rottura di scatole però penso anche che ha un suo modo di essere accogliente perché dobbiamo accogliere le parti le parti buie di noi le parti forse anche che ci piacciono un po meno qualcuno può essere tentato di scacciarle questo può essere molto pericoloso dobbiamo accettarle come una parte di noi per quello che sono deo grazia quello che ho scoperto e di essere imperfetto anche se davanti agli studenti molte volte mi capita di dire come vedevate ho sempre ragione io perché è vero io ho sempre ragione sono tante cose da dire purtroppo avevo beccato un paio di spunti nella nella tua domanda che poi ho perso ma veniamo subito al sodo casomai li recuperiamo dopo è una domanda nella quale mi trovo molto a mio agio perché ho recepito le indicazioni di alcuni di alcune famiglie e ho buttato li ai colleghi la proposta di avere una sorta di corso di potenziamento teatrale e la proposta è stata accolta e si è creato un piccolo gruppo di lavoro e questo piccolo gruppo di lavoro ha lavorato con direi grande entusiasmo grande scoperta se ci siamo buttati in mille di direzioni ma il vero punto di partenza come speravo io è stato il punto di arrivo cioè che cosa vogliamo ottenere da un potenziamento teatrale e qua mi arriva la risposta la richiesta la spiegazione al ministro abbiamo lavorato su quelle che si chiamano noi odiamo insegnanti questo termine che viene usato tantissimo competenze trasversali chi è nella scuola da più tempo di me ne sente parlare da decenni non si è mai capito bene che cosa siano però più o meno un'idea vaga ce l'abbiamo ci sono il motivo per cui vale la pena lavorare sul teatro sulla teatralità sulla sperimentazione col proprio corpo permette di attivare in modo molto efficace quelle che sono le competenze trasversali che sono competenze di come hai detto tu interazione con gli altri e quindi far capire che è molto importante il discorso della collaborazione anche se qua sto andando un pochino contro il mio credo una sana competizione quindi una competizione con delle regole precise e che la incasellino è uno stimolo a una crescita sicuramente io vedo sempre un po di cattivo occhio la competizione credo molto nella collaborazione e nella società attuale io credo che sia molto importante dare l'accento sulla proprio sulla cooperazione perché si è dato forse troppo spazio e troppa importanza alla competizione adesso vediamo di ridimensionarla e recuperare questi che sono quelli che si chiamano valori umani secondo me più più ricchi quindi l'abitudine all'ascolto dell'altro alla relazione con l'altro le competenze di comunicazione perché c'è poco da fare noi pensiamo quando pensiamo alla comunicazione probabilmente pensiamo alla parola io sto usando tantissime parole però nel frattempo il mio corpo si muove e c'è nella gestualità nell'atteggiamento se io come ho fatto a un esame faccio così e me ne sono accorto un esame in università mi sono reso conto che questo mio semplice gesto stava esprimendo un disagio quindi essere coscienti di quello che il nostro corpo dice e può dire all'altro nel bene e nel male quindi saper gestire questa comunicazione è importante consapevolezza del sé che vuol dire sapere come mi posso muovere come occupo lo spazio come sto torniamo al discorso della comunicazione anche il semplice stare il semplice camminare muoversi dice tantissimo una delle prime cose che si dicono nei laboratori teatrali anzi forse la prima cosa che si fa vedere nei laboratori teatrali ai ragazzi e ma poi importantissimo di tutto questo c'è un aspetto che forse nella scuola l'aspetto che viene più sottovalutato e ahimè probabilmente da molti colleghi che magari predicano bene ma non si rendono conto poi di agire in maniera antitetica è l'importanza positiva dell'errore la libertà di sbagliare questo è il nocciolo secondo me della dinamica laboratoriale che viene messa in atto in particolare in un laboratorio teatrale un'altra delle prime cose che mi sono sentito dire quando ho iniziato a fare io laboratorio teatrale come diciamo così soggetto che subiva il laboratorio che lavorava nel laboratorio essendoci dentro è stato non esiste niente di sbagliato quando vi chiediamo qualche cosa di fare qualche cosa ognuno lo farà a modo suo non esiste un modo giusto o un modo sbagliato ma e questo è interessante esiste un modo credibile o non credibile e se vogliamo questo è il giusto sbagliato mi è stato chiesto di essere un colore di essere un elemento e la cosa lì per lì ti spiazza perché immagina di essere rosso come si muove il rosso che atteggiamento al rosso ci pensi e lo fai se lo fai pensando di essere rosso in quel momento sei rossa a me siccome piace molto l'arancione mi dicono che abbia fatto un arancione bellissimo ma penso che l'arancione sia anche facile da fare al di là di queste facezie c'è poi un risvolto importantissimo sul discorso dell'attenzione il teatro non permette distrazioni richiede un qui e ora continuo io devo essere sempre in scena devo essere cosciente di questo e nel laboratorio questo viene attuato si lavora su questo non ci si possono permettere distrazioni anche se si gronda di sudore sia prurito dietro l'orecchio ahimè ogni tanto mi scappa come adesso mi prude il sopracciglio migrato ma quando sono al laboratorio quindi mi do questo permesso questi sono direi i punti principali poi indubbiamente se ne possono trovare mille alti altri però lo stare bene come si suol dire con se stessi conoscere il proprio corpo sentire come si muove e tutto quello che ho detto prima questi sono del indubbiamente tutti del come dire degli aspetti positivi delle cose su cui il laboratorio lavora la teatralità lavora in modo pesante certo e qua ho recuperato una delle cose che avevi detto che mi avevano fatto scattare un pensiero il teatro è come la terapia non può essere imposta il teatro va scelto a 19 anni lo raccontavo ieri a qualcuno io andai a vedere uno spettacolo di albertazzi anzi ne vedi più di uno di questa fortuna e dopo qualche giorno da un riccardo terzo memorabile lui fece un incontro per i ragazzi delle scuole superiori io andai e lui chiese se c'era qualcuno disponibile a salire sul palco per un'improvvisazione e io all'epoca ero estremamente timido e ricordo però la lacerazione dentro di me decisi di non andare non era ancora a tempo l'ho fatto trent'anni dopo va bene è così ogni cosa a suo tempo